Prendiamo atto del provvedimento e ci riserviamo di dialogare con i vertici ASL per individuare una soluzione che tuteli tutti i cittadini del Vallo di Diano. Così il sindaco di Sala Consilina, Francesco Cavallone, replica dopo che il Consiglio di Stato la scorsa settimana ha accolto il ricorso presentato dall'ASL di Salerno e dal Comune di Sant'Arsenio contro la sospensiva del TAR di Salerno che aveva bloccato il trasferimento degli uffici del distretto sanitario da sala Sant'Arsenio. Tutto da rifare dunque e da un momento all'altro si potrebbe dare il via al passaggio degli uffici amministrativi del distretto presso l'ospedale di Sant'Arsenio come già accaduto con quelli di Polla. Una decisione che era stata fortemente avversata dall'amministrazione comunale di Sala Consilina già ben prima delle elezioni per i disagi che il trasferimento avrebbe arrecato all'area sud del Vallo di Diano più distante da Sant'Arsenio e per il timore che la cittadina capofila del territorio dopo il tribunale potesse perdere anche un'altra struttura e un altro servizio. All'opposizione dell'amministrazione di Sala aveva risposto il Comune di Sant'Arsenio chiedendo che l'ASL rispettasse i patti i quali stabilivano che una volta svuotato di funzioni l'ospedale di Sant'Arsenio venisse riempito di questi nuovi servizi con un risparmio economico visto che non sarebbe stato più necessario pagare il fitto per i locali. Il TAR aveva dato ragione in un primo momento al Comune di Sala, ora il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza rendendo più concreto e imminente un possibile trasferimento. Al momento non abbiamo avuto alcuna notizia del genere, ha detto il primo cittadino di Sala Consilina, tutto è come prima ma siamo pronti ad incontrare il manager squillante e a fargli presente una soluzione alternativa che potrebbe evitare tutti questi problemi. Sì perché in realtà anche se ci fosse un accordo tra sindaci e ASL in merito all'ubicazione degli uffici amministrativi del distretto resta il contenzioso aperto tra l'azienda sanitaria e una parte della proprietà dei locali dove attualmente è ubicato. Tali uffici infatti occupano due ale di un edificio relativo a due proprietà diverse, con una ci sarebbe stato l'accordo, con l'altra invece sarebbe arrivato lo sfratto per canoni non pagati. Nonostante la buona volontà del Comune di Sala Consilina di assumersi l'onere dell'affitto, resta il problema dello sfratto che dovrebbe portare a trasferire gli uffici che ora occupano l'ala del proprietario con cui è in corso il contenzioso nell'ala dell'altro titolare. Sarebbero però necessarie una serie di lavori dei quali ancora non è chiaro chi dovrebbe farsi carico.